Il Consiglio regionale della Toscana respinge a maggioranza la mozione presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci, che chiedeva di rievocare l'incarico a Oliviero Toscani dopo le sue dichiarazioni rese sull'esito degli ultimi risultati elettorali. L'incarico in questione è quello relativo all'affidamento da parte della regione del contest fotografico La Toscana di Toscani. Le dichiarazioni riguardavano in particolar modo gli elettori di Fratelli d'Italia, parole che, secondo Petrucci, rendono imbarazzante per la regione avere Toscani come promoter del turismo femminile, a sostenere alla mozione tutte le forze di opposizione ed anche Italia viva. Cosa ho provato quando ho capito che Meloni avrebbe vinto? Veramente non sapevo se era Vanna Marchio o la Meloni. Urla, strabuzza gli occhi pitturati di blu, mostra le unghie rosse. Direi che è abbastanza volgare. Gli italiani che l'hanno votata? Quando la maggioranza è cogliona hai una democrazia cogliona. Gli italiani che hanno votato Giorgia Meloni sono deficienti per me. Queste sono le parole con cui Oliviero Toscani ha commentato le elezioni politiche del 25 settembre. Gravi in assoluto, gravi a maggior ragione nel momento in cui Oliviero Toscani è stato incaricato dalla regione toscana di fare una campagna alla Toscana di Toscani all'interno di Benvenute in Toscana per attrarre il pubblico femminile nella nostra regione. Evidentemente le due cose stridano. Evidentemente questa cosa è gravissima per cui oggi come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una mozione in Consiglio regionale chiedendo intanto di condannare le gravi esternazioni del viaggio Toscani e poi di revocargli l'incarico profumatamente pagato per fare questa campagna pubblicitaria. Anche perché ci chiediamo le donne che Toscani vorrebbe attrarre in Toscana sono tutte, escluso quelle evidentemente che hanno votato Giorgia Meloni, perché se sono, come lui ritiene, deficienti è evidente che la cosa non sta insieme. A noi abbiamo chiesto che il Consiglio regionale prendesse una posizione chiara su questo. Mi dispiace prendere atto del voto contrario alla revoca dell'incarico da parte del Partito Democratico. Oliviero Toscani non ci meraviglia più ormai. Dopo le sue frasi sul ponte di Genova dove sono stati allucinanti, orribili, orripilanti nei confronti di quella tragedia delle vittime, dopo aver essere stato denunciato da un ragazzo e quindi condannato dal tribunale di un ragazzo della Calabrese che voleva semplicemente fare una foto con lui e che gli è stato detto no, non faccio una foto con te perché hai la faccia da mafioso, oggi, un po' di tempo fa su un'intervista di un giorno a Pecora continua a offendere i politici italiani, gli elettori italiani, ma soprattutto ad essere un sessista, un maschilista, ad usare toni, modi e paroli nei confronti di una donna, di Giorgia Meloni, che è un leader, che veramente sono orripilanti. Credo che abbiano fatto bene Benetton nel 2020 a mandarlo via quando ha usato quelle frasi, credo che abbia sbagliato il Presidente della Regione Toscana ad affidare un incarico a una persona che usa quei termini, quei modi nei confronti degli elettori e nei confronti della politica. Abbiamo chiesto di revocare quell'incarico che costa 30.000 euro alla Regione Toscana, magari con quei 30.000 euro noi potevamo fare altre cose. Il Partito Democratico ha scelto di tenere, Oliviero Toscani, di dare una consulenza a una persona che si permette di offendere le donne e gli uomini, coloro che fanno politica, coloro che vanno a votare. Noi crediamo che non sia giusto. Io ho votato a favore perché ritengo che sia indecoroso quello che è stato detto e quindi la Regione Toscana deve prendere un provvedimento perché il rispetto nei confronti delle persone, in primis di una donna, deve essere da parte di tutti e soprattutto quando si ha un incarico a livello regionale e questo è molto grave quanto è successo. c'è un'offesa nei confronti anche dei cittadini che sono degli elettori e non possono essere appunto denominati così come sono stati appunto considerati in quella definizione e come tale la mia posizione è stata in coerenza con tutte quelle che abbiamo espresso come Consiglio regionale nel prendere le distanze da queste dichiarazioni. È un metodo che deve essere lontano dalla cultura dei principi della Regione Toscana. Abbiamo votato a favore di questa mozione perché riteniamo che non ci sia niente di più inaccettabile quando si intende fare la morale o dare l'esempio dei due pesi e delle due misure. Giustamente il Partito Democratico si indigna quando vengono offese dalle esponenti del suo partito o di altri partiti a loro vicini se vengono insultati. Non si capisce perché questo debba essere accettato quando essere insultati o vilipese sono le esponenti donne ma io metto anche uomini di altri partiti politici specialmente se sono rivolti dall'altra parte dell'arco parlamentare ma chiunque essi siano. Noi riteniamo invece che la difesa dell'immagine della dignità delle persone, donne e uomini, lo ribadisco, debba essere assolutamente trasversale e che la Regione debba dare il buon esempio e non utilizzare come testimonio o comunque sia dare degli incarichi a delle persone che legittimamente come personaggi pubblici esprimono la loro opinione. Che però non può essere condivisa e non ci deve essere accostamento come la Regione Toscana? Noi riteniamo che questa figura non possa essere collegata alla Regione Toscana e tantomeno avere incarichi retribuiti. Si parla di 35 mila euro per una campagna che tra l'altro avrebbe dovuto promuovere le figure femminili bentornate in Toscana. Ecco, francamente ci sembra alquanto inopportuno non revocare l'incarico alla luce appunto di di dichiarazioni che sono assolutamente pesanti e che certamente non sono condivisibili ma che ci aspettavamo fossero stigmatizzate e condannate anche dalla maggioranza. Fare opportunità a parole ma quando poi si passano i fatti ecco tutto quanto cade nel vuoto. Il voto contrario del Partito Democratico però boccia la mozione ad illustrare le ragioni del no il consigliere Gazzetti che parla di un atto costruito su un pregiudizio nei confronti di Oliviero Toscani. Come tutte le persone di questo mondo ovviamente può esprimere le proprie valutazioni. Noi tra l'altro a fronte dell'atto abbiamo proposto proprio per come dire sgombrare il campo dal rischio che fosse davvero interpretabile come un pregiudizio a priori nei confronti di Toscani di separare le due parti. Noi eravamo assolutamente disponibili a esprimere ferma condanna rispetto alle dichiarazioni di Toscani nei confronti della Presidente Meloni. Ci mancherebbe altro. Sul tema della revoca dell'incarico ci è sembrato ovviamente appunto un atto strumentale. Noi eravamo pienamente disponibili. Questa proposta è stata rifiutata. Riteniamo che ovviamente su questi temi si debba sempre cercare di trovare il più ampio consenso e soprattutto la più ampia convergenza. Noi avevamo dato piena disponibilità finché si arrivasse a questo obiettivo. Due anni dall'insediamento del Consiglio regionale e due anni di attività dell'Ufficio di Presidenza. Nelle Media Center, Davide Sassoli, Antonio Mazzeo e gli altri membri dell'Ufficio tracciano il bilancio dell'attività svolta dai numeri 45 sedute dell'Assemblea Legislativa con un tasso medio di presenza dei consiglieri del 96,8%, 74 atti trattati, 117 proposte di deliberazione, 411 mozioni, 96 risoluzioni, 124 ordini del giorno, sino alle tante attività svolte sul territorio. Nel primo bilancio il Presidente Antonio Mazzeo parla anche di interventi per il risparmio energetico. Sono stati due anni complessi anche per noi, due anni in cui abbiamo cercato di restare all'altezza degli occhi delle persone, dei loro bisogni. Lo abbiamo cercato di fare tutti insieme come Ufficio di Presidenza. Farlo indipendentemente dai nostri schieramenti politici di appartenenza con l'unico obiettivo cercare di rendere questo luogo un luogo aperto in cui i cittadini si sentissero a casa, in cui conoscere quello che era il nostro lavoro. Un lavoro importante, le presenze dimostrano anche il lavoro dei colleghi consiglieri, quasi il 96% di presenze da remoto o in presenza, che danno il segno di una grande attenzione al ruolo che ciascuno di noi è chiamato a svolgere. Noi in questi due anni abbiamo deciso di investire molto sui giovani, quelli che hanno sofferto di più durante questa fase di pandemia. Penso al bando sulla rigenerazione urbana, hanno partecipato quasi il 70% dei comuni della Toscana, ognuno con un progetto rivolto alle ragazze e ragazzi. I nostri gonfalloni d'argento, che sono il massimo riconoscimento, sono andati proprio soprattutto a giovani, a giovani impegnati, a giovani che hanno portato in alto il nome della Toscana nel mondo. Oggi noi vogliamo rilanciare la nostra azione tutti insieme. Nel prossimo ufficio di presidenza, in accordo tra tutti i membri dell'ufficio di presidenza, darò anche delle deleghe in maniera tale che ognuno possa fare il proprio lavoro meglio, possa aiutarmi, coadjuvarmi ancora di più in questo lavoro che abbiamo di fronte a noi. Vista la situazione complessa che sta vivendo il Paese dal punto di vista energetico, così come hanno fatto anche altre realtà, a partire dal comune di Firenze, nella prossima seduta dell'ufficio di presidenza, penseremo anche ad una riorganizzazione che prevederà la chiusura del palazzo al numero 18, il lunedì e il venerdì, in maniera tale da dare anche noi il nostro contributo per la riduzione del costo dell'energia, che tocca davvero tante famiglie, su cui noi sentiamo tutta la responsabilità. Con lui i consiglieri Scaramelli, Petrucci e Casucci. Ha fatto un ottimo lavoro di squadra, l'ufficio di presidenza, guidato dal presidente Mazzeo, sta lavorando bene, ha fatto degli investimenti importanti per consentire al Consiglio di lavorare in maniera migliore, di relazionarsi con i territori. Dobbiamo crescere, a mio avviso, nella possibilità di incidere con progetti di legge e di iniziativa consigliare. I consiglieri regionali devono essere, a mio avviso, sempre di più consiglieri regionali della Toscana, sempre meno dei loro territori. Dentro le relazioni con i propri territori devono avere la forza di incidere in proposte di iniziative, anche autonome, al cospetto delle funzioni di governo, che sono quelle che competono alla Giunta. La nostra funzione di rappresentanza deve crescere con delle autonomie di carattere finanziario e continuare in queste iniziative che vede il Consiglio regionale essere al fianco dei giovani toscani. Sempre di più identità toscana, sempre di più partecipazione e sempre di più coinvolgimento delle nuove generazioni. Questo è un obiettivo che, a mio avviso, in questi due anni abbiamo raggiunto e sempre più dobbiamo lavorare in questa direzione. Due anni difficili, chiaramente il tema della sanità, che in un Consiglio regionale è sempre centrale, lo è stato ancora di più nel periodo della pandemia, però il Covid è una buona scusa, ma non è una soluzione per i tanti problemi che ci sono in sanità. Noi pensiamo che la sanità abbia bisogno di riforme strutturali profonde e che non sia sufficiente dire servono più soldi. Serve un'impostazione differente, potenziando i servizi sul territorio, potenziando i servizi domiciliari, anche quelli diagnostici, in maniera tale da decongestionare pronto soccorso ospedale facendo lavorare meglio. Serve più trasparenza, più merito nelle scelte che vengono fatte in sanità. Il duplicarsi, il triplicarsi, il quadruplicarsi a volte dei primariati serve a dare risposte ai primari e non ai pazienti facendo spendere più soldi. Quindi noi pensiamo che la sanità debba essere ripensata, pensiamo che ci voglia un'impostazione differente e che l'attuale assessore non sia la persona più adatta per poter governare un ambito così delicato. Credo fortemente nell'autonomia e come tale non posso che rivendicare tutto ciò che possa essere di utilità al mio territorio, al nostro territorio toscano. Credo che il tema dell'autonomia, del regionalismo differenziato debba essere portato avanti con convinzione dal Consiglio, dalla stessa Giunta, occorre investire in termini di sostegno alle attività produttive che sono veramente in difficoltà. Il Consiglio regionale deve essere sempre più aperto al mondo esterno. Abbiamo fatto tante iniziative e dobbiamo continuare a farne, proprio per cercare di avere un rapporto diretto con le associazioni, con le istituzioni. C'è un grande mondo fuori che vediamo purtroppo in difficoltà e noi dobbiamo essere degli strumenti umili e utili per portare avanti gli interessi dei toscani. È stata presentata a Palazzo del Pegaso la nuova edizione del Fogliano Book Festival, pronto a tornare in una edizione completa dopo le limitazioni dovute alla pandemia, appuntamento dal 5 al 19 novembre. Nomi importanti che per due settimane metteranno il borgo della provincia di Arezzo al centro della scena culturale toscana e non solo. Questo è un festival culturale che è uscito dalla provincia e di questo siamo molto soddisfatti. Gli autori che vengono sono di levatura molto alta e anche questo ci fa molto piacere. Abbiamo un rapporto ormai consolidato con le maggiori case editrici italiane e quindi speriamo e siamo convinti che anche questa terza edizione sia un successo. Una dimensione giusta quella del borgo piccolo di Fogliano e l'incontro diretto con i lettori? Sì assolutamente, l'obiettivo infatti è questo, di portare gente fisicamente a parlare con degli scrittori perché poi fare la presentazione di un libro è una cosa molto semplice, basta una cassa e un microfono e un po' di pubblico. La cosa difficile è quella di trovare autori, a volte sono più famosi, a volte meno famosi ma che comunque riescano a avere un contatto con il pubblico. Il bello e lo scopo di questo festival è portare persone in presenza in un contesto culturale come è poi il paese di Fogliano della Chiana. Ad illustrare gli obiettivi e gli appuntamenti del festival la direttrice artistica è il coordinatore degli appuntamenti. Quest'anno abbiamo un bellissimo programma devo dire, abbiamo un buon numero di scrittrici donne ma importanti come Teresa Ciabatti, Chiara Tagliaferri, entrambe finaliste al premio strega, Federica Bosco che è toscana e Gaia Cenciarelli che è romana, poi abbiamo personaggi anche importanti come Walter Veltroni, Pupiavati, abbiamo un attore che è Marco Bonini, abbiamo un piccolo gruppo di scrittori romani anche e poi tra i romani, importante, Miguel Gotor che è l'assessore della cultura del Comune di Roma e parlerà del suo libro sugli anni 70, gli anni di piombo. Posso dire anche dalla mia esperienza breve di insegnante, di italiano, che non è vero che i ragazzi non hanno voglia di leggere, quindi mi auguro anche che questo festival sia un modo per dimostrarlo e comunque per incoraggiarli. Penso che oggettivamente il Foiano Book Festival si stia segnalando come una delle manifestazioni più interessanti del settore e quindi ancora una volta andiamo di fronte ai nostri sponsor e ai nostri ascoltatori che vengono da tutta l'Italia e siamo sicuri che la prossima edizione sarà ancora migliore di questa. Alla presentazione c'erano anche il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo e la Consigliera regionale Lucia De Robertis. Il livello di quest'anno è davvero di eccezione, speriamo che ci sia la partecipazione di tante persone ma soprattutto di tanti giovani, di tanti uomini e donne che immaginano nel libro un modo comunque di partecipare al sogno collettivo. Grazie per la visione! Grazie per la visione!